Nino Lauro, grande speaker radiofonico, voce inconfondibile, amata da tutti gli ascoltatori, stasera nella veste di presentatore per un evento di solidarietà, vero? Qual è stata l'emozione e l'energia che c'è stata? L'emozione è stata fortissima, anche l'energia, il pubblico ha risposto bene, c'erano veramente tanti argomenti importanti, abbiamo parlato della violenza contro le donne sotto più aspetti, anche sotto l'aspetto di educare anche i bambini, perché come alcuni redattori hanno detto, giustamente da piccoli che i bambini apprendono un po' quello che sono le regole della vita e soprattutto anche un messaggio per le mamme che educano poi questi bambini che purtroppo a volte capita che da grandi diventano violenti e molestano le donne. E parlando invece di te, qual è l'appuntamento che dai ai tuoi infanzi? L'appuntamento è quello di sabato prossimo dalle 14 alle 16 sempre su CRC della Cato Italia con il nostro programma, non ci resta che, sicuramente riparleremo dell'argomento come abbiamo fatto in anticipazione e faremo un po' le conclusioni, magari chiameremo la Presidente dell'Associazione Mamme al Centro, Roberto Desposito, che ci racconterà un po' come è andata questa sera. E quindi salutiamo anche la tua collega... Salutiamo anche Florina Monici che in questo momento è impegnata su un altro versante, saremo insieme sabato in questo appuntamento del nuovo weekend, quindi aspettiamo numerosi, CRC della Cato Italia. Non mancheremo di sintetizzarsi. Grazie, grazie Carlo, grazie. Ciao. Ciao.